Sono Claire Burke del British Council Italia. È proprio un piacere essere qui a Didacti Italia. Del British Council siamo qui presenti in Italia da 1945. Siamo attivi con il nostro lavoro, con i nostri studenti, anche per i docenti. Infatti è un piacere essere qui per scoprire sempre di più il mondo dei docenti e essere vicini. Per quanto riguarda il nostro lavoro in Italia, lavoriamo con oltre 2.000 studenti all'anno, poi collaboriamo con oltre 200 scuole e oltre 50 università. Lavoriamo nel mondo linguistico offrendo corsi di inglese per studenti, una formazione per docenti e anche nel mondo dell'assessment.